Ciao belle, ciao belli, hola cighe, hola cicchi Allora, sfruttiamo questo trucco, vi faccio già un mese o dieci minuti se no proprio che buttalo nel cesso, non avevlo fatto Dunque, faccio questi due video perché me li avete richiesti e siccome sono rimasta molto contenta di questi due prodotti, ve ne voglio parlare Allora, vi devo poi fare un video sui fake presi da ebay dove vi metterò i vari link eccetera però li voglio prima provare sti fake almeno poi sarò incisiva, molto... cioè non si freggia mica più con l'acqua sto facendo dei video con un cellulare di quelli e c'ho da farvi pure il video dei mascara anche questo è molto buono ma io questo ce l'ho io, allora, questo lo trovai per caso alla coppia quando si andò a fare la spesa con Aline io non mi ero, non l'avevo neanche mai vista perché ancora non avevano fatto neanche la pubblicità di questo battissi mi sembrava della Benefit quando lo vedi lì perché aveva lo stesso packaging della scatolina della Benefit se che non ho esitato va bene allora che cazzo bercio allora questo è un video sulla sul video della Lotti allora io ho scoperto mo' che esiste sta marca quindi so la peggio però sapete che ero rimasta un po' indietro e avendo io della Lotti già lo strobe stick questo che avevo perso per caso da ODS tempo fa dobbiamo fare dei video pure con Filippo e Aline allora vi voglio in uno parlare di una cosa e nell'altro vorremmo fare una challenge io ho perso tutta la voce non ci fate caso ma sto ultimamente portando il il pocciame di fuori cioè nel senso perché non riesco a entrarci tutto non capisco vabbè quindi allora vi faccio vedere questo per curiosità perché anche questo vale e anche questo costa una miseria ve lo faccio vedere allora io ne ho un botto di illuminanti stick anche se non li amo perché solitamente devi rimetterne ci devi rimettere il prodotto vedete esatto però devo dire che la Lotti è veramente buona allora questa palette costa 7,90 euro come vi dissi nel vlog io ho conosciuto questa palette nel video di due youtuber che la confrontavano con la palette della Mulac allora nel loro video sì è bello luminoso ma non quanto quello della Mulac mentre io vi posso garantire che adesso vi faccio lo swatch e questo è è un illuminante che è veramente ti illumina d'immenso allora la palette è questa il pegging è favoloso dietro trovate a faccetta della tipetta dove vi spiegano bene o male dove lo potete mettere quello che ci potete fare e si chiama shimmer squad a me già shimmer squad mi fa impazzire squad molto squad e made in cina ora non lo leggerete mai e comunque il coniglietto per chi lo vuole sapere non c'è quindi questo è già un punto in meno per la Lotti c'è sia la palette di illuminanti che la palette di correttori 7,90 euro allora all'interno troviamo la palette è fantastica di cartone con queste stelline perché voi sapete io adoro le stelline con queste linee che fanno impazzire no cosa c'è oh mio dio 7,90 euro è veramente il top perché poi all'interno trovate pure lo specchio ok allora le cialde sono queste io l'ho usata per parlarvene l'ho usata parecchio non la voglio rompere quindi questo non lo giro e abbiamo The Troublemaker ora tutti parlano con questi accenti inglesi molto yeah io so a cafonaccia e a cinghiale ad esempio quindi ce ne può fregare di meno perché io sono italiana e parlo italiano ok se volete l'inglese andate a guardarvi no yeah she wants no cioè in vere mani proprio qua The Troublemaker che poi anche io ce ho il mio accento cioè nel senso The Queen Bee io non vorrei l'avessero preso da Julio struso tronchiamo anche il ciborio The Good Girl e The Flirt Allora abbiamo il bianco Che madonnino cosa non è Camilla il pallino è qua Non è qua Il bianco cosa non è Questi tre sono colori caldi Comunque come vedete Sul marroncino Comunque questo è quello più scuro E questi sono quelli più chiari Favolosi lo stesso Cioè sono veramente Veramente dei prodotti validi Allora ve li swatcho Questo è The Troublemaker Allora come tutte sapete Gli illuminanti quando si swatchano con le dita Sono ma anche come qualche ombretto Sono più pastosi Perché? Cioè sono più accesi Perché il dito Erdito Emana calore E quindi nello swatch il calore del dito Non è come il pennello Quindi già questo Vi rileva il prodotto in maniera diversa Quindi ora ve lo fò col dito e col pennello È la cosa principale È più importante E poi il dito Preme sicuramente più del pennello Allora questo è The Troublemaker Ed è questo Che non so se vedete Cosa non è questo cacchio di illuminante Vi faccio vedere Io sono questi qui I pennelli che uso per l'illuminante Preso da ebay Pagato un euro Ok Anche se la gente Lo usa Prima io non le vedevo usare Io l'ho sempre usato Questo qui Perché mi piaceva come Proporzione Perché prima se vi ricordavate Tutti usavano i ventaglini Anche io per un periodo Avevo il ventaglino Ma io se riguardate i video Vecchi Ci ho sempre avuto questo Camilla sta troppo avanti Poi invece Ultimamente sto usando questo Che vi dirò nel vlog Che è appunto questo flat Vedete Piccolo Però schiacciadello Allora vi faccio vedere con questo Allora le scialde sono parecchio pongose Nel senso sono belle compatte Morbide Mi garbano da stiantà Quando hanno questa consistenza Allora Come vedete rimane Molto nel pennello Ok L'eccesso c'è E vi faccio vedere Allora guardate cosa non è Cioè E te mi vieni a dire Quello della mula Che spinge più di questo Cioè È impossibile Spinge la cassa Cioè Dov'è che può spingere più di questo Figliole O è il pennello Che non gli va Però Non voglio fare problemi Cioè Per chi è stato Per chi ha fatto il video Bimba Non ve la prendete Io vi sto soltanto dicendo Quello che penso Non vi sentite Prese in causa E non vi sentite Che voglia essere quella E vi vuole rovinare O vuole Ecco O vuole parlare male di voi O quello e quell'altro Vi prego No Sto solo facendo Delle osservazioni Visto che parlo di un prodotto Anch'io Ognuno dice la sua Mi stanno scrivendo Delle ragazze che mi guardano Che so Delle fighe paurose Una più bella Di un'altra Allora E questo è The Troublemaker Cioè Guardate qua Ditemi se questo Non è un illuminante Spacca Cioè Ok Però vi faccio vedere Con questo qui No Tanto comunque L'applicazione Questa la dà Un po' Più bombolona Magari di quelli Che Vi Vi spiccano meno No Perché questo Essendo un pennello A goccia Ok Non so se mi riesco A spiegare Il pennello A goccia Allora Il flat È piatto E quindi Ha Hai una maggiore Forza E una maggiore Aderenza Con il viso Mentre questo No Questo ha più E per quello Che la gente Lo usa Per illuminante Però Io uso questo Perché tanto Mi do l'illuminante Come se non c'è Fosse in domani Quindi ok Poi abbiamo The Good Girl Che è questo Più chiaro Che anche questo È molto bello E spinge Allora Questo è col dito Vediamo Eccolo qua Questo addirittura Secondo me È un duochrome Perché Secondo me No non è un duochrome Era la luce Che faceva questo verso E questo è Il The Good Girl Che se lo vedete per bene Quando siete andate A sfumarlo Non è Non diventa più un marrone Ma ha questo chiaro Ha questo colore chiaro Allora Io faccio Dico il pennello Dove cacchio Vi dovevo prendere Una salvietta E questo è The Good Girl Come vedete C'ha questi C'ha questo dorato A differenza di questo Che vedete Il color perla Vedete eccolo qua Perché altrimenti V'arriva riflesso Di non so cosa E questo è The Good Girl Cioè lo vedete Cosa non so Sti illuminanti E te mi vedi Che ne spingano Cioè è impossibile Cioè o la paletta è falsata Poi abbiamo The Queen Bee Che è questo Ed è questo Questo va Ve lo prendo con il pennello Ora però Lo dobbiamo un po' Devo rifare Quel Il cleaning brush Perché veramente Sto lavando un sacco di pennelli E i pennelli si rovinano Questo è The Queen Bee Eccolo qua Che però Gli sape lo faccio di qua Via The Queen Bee Infatti The Queen Bee È quello che Come vedete Ha meno Ha meno Luminosità Come ve lo dico Questo è il morso di Hux Eccolo qua È quello che Si accentua di meno Questo È un illuminante normale Che non spacca Questi spaccano Ora ve lo faccio qui E l'ultimo È De Flirt Che è questo Scuro Io non amo Gli illuminanti Con questo colore Devo essere sincera Questi dorati così E questo è De Flirt Anzi ve lo metto qua De Flirt Eccolo qua E questo è De Flirt Allora figliole Io vi lascio Le conclusioni A voi Cioè Ditemi voi Cosa non so Sti illuminanti E ditemi se Secondo voi È una palette Che non merita Da 7,90€ Allora parliamoci chiaro Ragazzi Una palette Stavo per dire Una pacchette O una baguette Una palette Della mula Che costa 39€ Io la volevo prendere Quando ho visto il video Devo essere sincera La volevo prendere Però sono andata a vedere Che costa Non mi ricordo Se 34 o 39 Io mi rendo conto Cioè Io ce le potrei spendere Però mi girano le scatole E spendere 39€ Cioè Per una palette Voi mi direte Una spesa di 33,60 Per un rossetto Per i rossetti Lo so Però una cazzata Una volta ogni tanto va bene Preferisco Lo sapete Tanto io mi seguo Lo so Preferisco Comprar più prodotti Magari che costano Meno buoni Di migliaia Di uno Che ci spendo tanto Allora Quindi Una palette del genere Che costa 7,90€ E hanno questa pigmentazione Così elevata C'è Bimbi mia Non c'è Non c'è storia Non c'è storia Non si può fare Io adoro questa palette Veramente ringrazio Quelle due ragazze Di avermela fatta conoscere Perché altrimenti Io non sapevo neanche Che esistesse la Lotti E quindi Con questo Ciudo Volevo mettermelo Un po' sotto Qua Che tanto poi Devo Lavare un pennell Allora E volevo Ridarmelo Un po' qua Ma tanto Non me lo ridò Perché I video adesso Non ne faccio più Comunque questo qui Un'altra cosa Che vi dico Ieri Sono stata All'OBS E volevo prendere Io ho già Gli illuminanti A cuore Della Makeup Revolution Che a suo tempo Mi regalò La Eli E lesina Qui mando un bacio Che una vita Non la sento Io non ho più il numero Ho provato anche A mandargli una mail Il tempo fa Eli se vedi Questo video Fatte viva Per caso Ho visto Questa palette E poi mi dice Vedi Come fa E rompe la roba Io avevo Questa Makeup Revolution Inviata da una cieca Allora Questo prodotto Ha due prodotti In crema E due in polvere Allora Sbocciandoli così Ok Allora Purtroppo Io mi sono resa conto Che dandoli addosso Con il pennello Non rendono molto Io devo ancora trovare Il pennello Da usare Con questa palette Quelli in polvere Lo stesso Non sono molto Eclatanti Ok Gli illuminanti Figliole Occhio se li swatchate Con le mani Il calore delle mani All'illuminante Li fa tantissimo Veramente Lo Lo esalta All'ennesima potenza Allora Cosa ho fatto Ho preso 8,90 euro L'ho swatchato In paio Ho preso il dito Perché C'è ne che tempo Tira fuori il pennello Posso tirar fuori Qualche altra cosa E ho swatchato Il rosa Perché nell'altra C'è il rosa Allora Questo qua È il rosa E questo È l'illuminante Ok Allora Allora Lì per lì Swatchato pure Sulla mano Ve faccio vedere Questo Ok Ve lo swatcho qua Eccolo qua Allora Avevo 10 euro Spicce Ho detto Va a fantasma La prendo Adesso Guarderò Perché Quelli a cuore Cioè questi Un altro Illuminante Da panico È questo Della bottega Verde Cioè fa paura Questa Me l'ha regalata Una cica E fa paura Questo è Un illuminante Della Wicon Che ho preso Quest'estate Che fa panico Eccolo qua Questo qui È l'illuminante Della mia Cap Revolution A cuore Dai Goldless Of Love Un illuminante Degno Di Tutte le Attenzioni Che merita Adesso Siccome L'altra paletta A me Non era piaciuta Tantissimo E in realtà A me La Makeup Revolution Piace molto Ho detto Gli voglio dare Una possibilità E poi Ribadisco Avevo queste 10 euro Tanti Non sapevi Dove spendere No Vabbè Che c'è Le voglio tenere In il borsello Però Ho voluto provare Perché comunque A me Mi piace La mia Cap Revolution L'ho swatchati Così E a me era piaciuto Per Rosa Da morire Ho detto Proviamo Quindi vi farò Sapere qualcosa E mo Vi saludo Vi mando un bacione Spero Che Non ho fatto L'applicazione Mi dispiace Ma comunque L'altro giorno Se non mi sbaglio Ve l'ho fatta vedere Vi mando un grande bacio Fate le bravi Spippeggiate poco Vi love Siamo sempre di più Cioè figliole Io ho ricominciato a fare video I primi del mese Siamo al 16 Siamo cresciuti Di 1500 Iscritti E non ho parole Io vi mando un bacio Fate brave Vi adoro Siamo Grazie.